Si aggirava armato per le vie di Sesto San Giovanni. Anis Amri, il killer di Berlino, era a piedi nei pressi della stazione in piazza Primo Maggio quando la polizia, attorno alle tre di questa notte nel corso di un normale controllo, lo ha fermato. Amri ha la richiesta di mostrare i documenti, ha risposto estraendo la pistola calibro 22 che portava con sé ed ha fatto fuoco contro gli agenti Christian Movio e Lucas Catà. Movio è stato raggiunto da un proiettile alla spalla ed è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Catà ha risposto al fuoco uccidendo il terrorista che, prima di morire, avrebbe urlato Allah Bar, Dio è grande, un grido ormai divenuto marchio di fabbrica del fondamentalismo islamico. E' terminata così la fuga dell'uomo che a bordo di un tir lunedì scorso si è abbattuto sul mercatino di Natale di Berlino, uccidendo 12 persone, tra cui Fabrizia Di Lorenzo, 31enne, di Sulmona. Secondo i primi accertamenti della Digos, coordinati dal capo dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobi, Ani Samri è arrivato in Italia dalla Francia, in particolare da Chambery in Savoia, da dove ha raggiunto poi Torino. Dal capoluogo piemontese avrebbe preso un treno per Milano, dove è arrivato attorno a luna di notte. Infine, dalla stazione centrale si è spostato a Sesto San Giovanni, dove ha incrociato gli agenti della squadra volante. Le prove degli spostamenti sarebbero nello zainetto del 24enne tunisino, in cui ci sono i biglietti del treno. Agli agenti della Polizia, il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha rivolto un ringraziamento speciale, non prima di aver ricordato come il sistema di sicurezza italiano abbia complessivamente funzionato. Nei prossimi giorni andrò personalmente ad abbracciarlo, gli ho fatto gli auguri di buon Natale, dicendogli anche che grazie alle persone come lui gli italiani potranno fare un Natale ancora più felice. Consentitemi alla fine di ringraziare tutto il dispositivo di sicurezza del nostro paese, di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Minniti non si è sbilanciato sulle indagini in corso sia in Germania che in Italia. Il corpo di Amri è stato identificato tramite le impronte digitali, le stesse lasciate sul camion della morte. Bisognerà chiarire come è stato possibile che sia arrivato indisturbato in Italia attraversando Germania e Francia e perché abbia cercato riparo proprio nel nostro paese, dove era stato detenuto per quattro anni nel carcere di Palermo. La morte di Amri, ad ogni modo, fa tirare un sospiro di sollievo a tutta l'Europa, in un clima che comunque resta molto mesto. Intanto a Sulmona, la città di Fabrizia, dove ieri sera sono scese in piazza per una fiaccolata a duemila persone, si attende il rientro della Salma per l'ultimo saluto della città alla ragazza, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alla famiglia di Lorenzo, il presidente del Consiglio, Gentiloni, questa mattina ha voluto rivolgere il suo pensiero. Cogliere questa occasione per stringerci, noi del governo e tutti gli italiani, in un abbraccio ai familiari di Fabrizia di Lorenzo. Come ho detto anche ieri, italiana esemplare rimasta uccisa in questa strage.